Siamo nel tratto conclusivo di Si gonfia la rete, quello di oggi che è venerdì e lo chiudiamo ospitando un grande personaggio nella nostra tribuna in città. Una tribuna in città. Ma quanto voglio bene ad Angelo Forgione. Buongiorno Angelo. Ciao Raffaele, come stai? Tutto bene, tu? Tutto bene, non ci lamentiamo. Napoli è anche lo stadio, Angelo. Mi pare che l'altra sera qui il sindaco in trasmissione da noi ha dato un messaggio importante anche colloquiando con l'onorevole Nardella che è il primo firmatario della legge sugli stadi e ad una definizione si potrebbe, anzi si arriverà entro la fine di questo anno per poi dare vita a tutte le procedure necessarie per la rivalutazione, per la ristrutturazione dello stadio. Qual è il tuo pensiero a proposito? Ma io sulla questione stadio sono francamente abilito perché non solo a Napoli, ma in tutta Italia, ma Napoli comunque porta appresso sempre questi problemi, chiacchiere, discussioni, dibattiti, forum, date, scadenze che arriveranno e il tempo passa e lo stadio San Paolo è sempre più inadeguato. Questa è una città che non si può più permettere uno stadio come quello o si interviene subito e voglio dire anche il governo deve sbloccare questa benedetta legge sugli stadi perché non è possibile andare avanti in questa maniera qui. Napoli deve anche essa cercare di trovare delle soluzioni adatte, l'ha fatto Torino chiaramente insomma le disponibilità lì anche se Torino apparentemente sembra una città ricca ma in questo momento non è assolutamente la città ricca che tutti quanti crediamo, Torino è la città più povera del nord, statistiche alla mano, quindi se Torino è riuscito a costruirsi, non dico lo Juventus Stadium perché alla fine ne ha costruiti più di uno di stadio, ha rifatto per le Olimpiadi il vecchio comunale, ha ricostruito sulle macerie del vecchio delle Alpi lo Juventus Stadium, quindi nel giro di 20 anni ha costruito se contiamo tre stati. Io credo che una città come Napoli sia ancora al palo e debba accontentarsi di uno stadio fatiscente che non fa sicuramente onore alla città e a una squadra di calcio che si sta facendo onore in tutta Europa, quindi io credo che sia il presidente De Laurentiis sia il sindaco De Magistris debbano una volta e per tutte guardarsi negli occhi, mettere da parte certi rancori che sicuramente ci sono, risolvere certe situazioni e pensare al bene sia della città che della squadra di calcio, così non si può andare avanti. Per chiudere voglio consigliare il libro di Angelo Forgione, Made in Naples, caro Angelo ti sta dando soddisfazioni, io lo sto leggendo e mi piace molto perché è molto ragionato oltre che storico. Assolutamente, credo che sia un libro, come hai detto tu, giustamente ragionato, senza alcuna volontà di traparlare. È un libro nel quale metto dentro tante cause storiche che ci conducono alla nostra realtà quotidiana, quindi senza voler esaltare troppo la nostra città, ma comunque dando con un occhio più obiettivo uno sguardo alla nostra storia che è importante e fondamentale, ha costituito l'Occidente, ha costituito l'Europa, non lo dice Angelo Forgione, non lo dice Raffa Lavorino, ma lo dice l'UNESCO che protegge questa città come patrimonio dell'umanità. Noi tutti quanti sappiamo che Napoli è patrimonio dell'umanità, ma forse non diamo i connotati a questo patrimonio, non sappiamo che cosa significa poi alla fine. Significa che l'UNESCO ha detto che questa è una città unica in Europa perché ha conservato la sua identità in tutte le sue manifestazioni, in tutti i suoi aspetti. partendo dal tessuto urbanistico che è rimasto quello dell'età greca, Napoli è l'unica città in Europa che mantiene la sua identità. Di questo dobbiamo essere assolutamente orgogliosi, non dobbiamo esserne all'oscuro, anzi dobbiamo recuperare tutti quanti la nostra identità e cercare di fare in modo che questa città unica in Europa ritorni a esserlo anche sotto il profilo culturale che purtroppo non vive più belle stagioni come una volta, ma sicuramente è un retaggio molto molto importante. Tocca ad ognuno di noi, ma se ognuno di noi è come Angelo Forgione, certamente che questo rinascimento partenopeo avverrà in tempi anche rapidi. Angelo per chiudere, ma tanti tifosi mi chiedono, ma il Raffaele Auriem del 2014 di Angelo Forgione, il si gonfia la rete non c'è questa. Ci sarà, ci sarà, quello è un qualcosa che è rimasto un po' nell'immaginario collettivo, ha fatto la sua storia, quindi se molti ce lo richiedono tanto a te quanto a me significa che quello è stato un punto di incontro tra di noi, è stato un qualcosa che poi alla fine segna la nostra conoscenza, la nostra amicizia e sicuramente non può essere tralasciato. Siamo due napoletani che la pensano allo stesso modo, quindi è bello così. Poi chiaramente per fare il si gonfia la rete 2014 serve qualche gol realizzato quest'anno, quindi dategli il tempo ad Angelo Forgione che il Napoli segni gol con i nuovi arrivati. Va bene. È giusto. Angelo è sempre bello sentirti, ti ringrazio. Altrettanto un saluto a Marco Giordone e a tutti voi, a tutti i radioascoltatori. Buona giornata al nostro Angelo Forgione. Si gonfia la rete. Si gonfia la rete. Di Raffaele Auriemma.